Giovanni Minoli, voluto dalla compianta presidente Iole Santelli alla guida della Calabria Film Commission, ha più volte fatto riferimento alla sua figura come esperto di cinema. Può dirci qual è il suo rapporto con il commissario Minoli e se si sostanzierà in una collaborazione? Sono onorato di poter lavorare accanto a un grandissimo del settore dell'audiovisivo che è Giovanni Minoli. Oltre ad essere un grande giornalista è un top manager, un uomo che è riuscito a fare quello che nessun altro ha fatto. Ha creato l'industria culturale, l'industria dell'audiovisivo in Italia che ancora adesso porta grandissimi frutti in campagna. Un posto al sole dà da lavoro a 8.000 persone e ha creato indotti economici enormi in questi 30 anni. Oltre ad avere la messa in onda, oltre a dare promozione alla campagna e a tenere legati milioni di italiani ogni sera con la sua messa in onda. Giovanni Minoli ha voglia di portare avanti questo grande progetto di industria culturale al sud Italia e di farlo in Calabria. Io sono onorato di poterlo accompagnare in questo percorso. Possiamo dire come si sostanzierà questa collaborazione? Sarò insieme a Franco Schipani, direttore artistico, siamo due consulenti direttori artistici della fondazione Calabria Film Commission. Lavoreremo a stretto contatto con il commissario, presidente, e lavoreremo per realizzare questo grande sogno che grazie a Minoli si può concretizzare. Grazie a tutti.